Se questo video raggiunge 250 mi piace, facciamo fare una mina assoluta da Yukidex, mi raccomando. Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video del vostro palazzone. Oggi, signori miei, siamo qua con un nuovo video sul canale YouTube, scusate l'assenza, ma un po' festività, live su Twitch, mi raccomando, passate dal link Twitch, mi raccomando, sono sempre in live lì più o meno 2-3 volte a settimana. Ma per questo video, signori miei, come state vedendo qui dalle mie manine, oggi ci andiamo ad aprire delle mystery box clamorose, ragazzi, veramente, veramente clamorose, fatte dal mio amico Yukidex. Mi raccomando, passate a seguirlo, sono delle mystery box fantastiche, costano tutte 35 euro, avete la possibilità di trovare diverse tagli, quindi diverse possibilità, come la silver, la gold e la platinum, che è quella più incredibile, con pacchetti come CP6, CP2. E in questo video, io so che all'interno ci sarà una bomba molto molto particolare, quindi ragazzi, se volete partecipare e spacchettarvi anche voi queste chicchette per l'anno nuovo, mi raccomando, vi lascio il link di Yukidex Instagram, mi raccomando, andate a mettere un bel follow. E noi ci sentiamo ragazzi durante il video, sarà un video pazzesco, tantissimi pacchetti, e dunque io vi sfido, se questo video raggiunge 250 mi piace, facciamo fare una mina assoluta da Yukidex, mi raccomando. Un bel pollicione in su, che tappetino ti ha portato il palazzone qua, che tappetino, questa è qualità ragazzi. Che queste mystery box con pacchetti pazzeschi, le potete trovare ragazzi da Yukidex, Jerry vi spamma il profilo Instagram, se riusciamo a fare arrivare il profilo di Yukidex a 300 follower entro questa sera su Instagram, ci tira fuori per inizio gennaio una mina pazzesca, eh, mi raccomando. E si apre la mystery box. E si apre la mystery box. Dove trovate un packaging del genere? Dove lo trovate? Come sempre ogni mystery ragazzi ha 10 pacchetti. Questo è sole luna se non ho sbaglio, corrisponde tipo a guardiani nascenti mi sembra. Bello, Match with Fighters. Il cavallo pazzo con Calyrex. Il fratello stupido sul cavallo pazzo. Cos'è questo arancione? Ah, palazzone, il palazzone, il palazzone Tower Imperfection. Pacchettino del venticinquesimo, molto interessante, fairy qualcosa, perfetto. Questo è il pacchettino promo, invece quello con i Duraludon e il Raiquaza. Fairy Race, bravo, grande, giusto, grazie. Non è mai che ci sei tu qua sotto. I Viros. Dream League. Dream League. E l'ultimo pacchettino. Pacchettino promo del venticinquesimo. Alto pacchettino del venticinquesimo. Pacchettino promo con Duraludon. Legendary Earthbeat. I Viros. Grossa questa, eh. Come fai a saperlo? Ti ricordi come le hai fatte? Altro Dream League, ragazzi. Mamma mia, che sbustatina di Dream League che ci spariamo, eh. Dream League, per chi non se ricordasse, è Eclissi Cosmica in giapponese, praticamente. Shiny Star V. X e Y break. Vediamo dietro. Bianco e nero. CP4, ragazzi. Cioè, guardate questo pacchetto. CP4. E dietro. Perché questo è il penultimo. E dietro. CP2. Matchless Fighters. Il fratello stupido di Calyrex. L'altro fratellino stupido di Calyrex. Tower Imperfection del palazzone, ovviamente. Pacchettino del venticinquesimo. Pacchettino del venticinquesimo. Dietro. Pacchettino. Bello questo, ragazzi. Giuseppe, in questo qua ci sono le gym, quelle tipo Espeon, Umbreon, quelle lì. Lo sbaglio. Lo sbaglio. Bello. Voltacol. SM8, che dovrebbe essere tipo tuoni perduti. E dietro. Altro pacchettino del venticinquesimo. Ex. Exasso. Vediamo cosa c'è qua dietro. Vediamo cosa abbiamo qua dietro. Ragazzi, CP2 è un set assurdo. L'oro che vedi è CP4, Joe. CP4. Qua ci sono due pacchetti da over 100 cucuzze. Cioè, non so se hai capito. Kirlia. Buono il gancho al forno, eh. Rockraff. Mini Snubbulls. No, non è Snubbulls. E dietro? Caliex chiama Caliex. Vabbè. Cosa ho appena visto dal pacchetto? È tornato. Gold per il palazzone. Gold per il palazzone. È una trainer. È una trainer. Oh, la sferina. Menchia, che bella, ragazzi. Mamma mia, non c'è paragone, eh, con la nostra. Togliamo. Altro pacchettino. Andiamo con il pacchettino. Ultimo pacchettino del palazzone. Tutto bene, musso. Grazie. Pum, 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 pum. Il pistolero. Aspetta, io non c'entro. Non guardare me. È lui. Fidati di me, palazzone. È proprio lui, eh. Sì. Fede, è proprio lui. Divios, delle evolution. Quindi, se la droppassi, non sarebbe una brutta cosa. Dici poco, palazzone. Sì, ho detto proprio poco. Energia in colore. Feebus. Eevee e Rayquaza. Electro. No, Voltor. Vedi etro. Di, di aprire. Dream League. Cioè, voi sapete che bombe ha Dream League? Guarda, se trovassi una fuori serie. Guarda, basta anche una piccola fuori serie, ragazzi. Quelle, tipo le shiachè. Deddine. Wee... Eh, sì, Weezing. Ciao. Koffing. Sneezel. Fuori serie. E, ragazzi, mi sembra una trainer. Mi sembra una trainer da Dream League. No, ragazzi, ma ci sono... C'è N. Reina. E Lilia. Eh, allora. Le altre costano un botto. Over 100 cupuzze. Indovinate un po' cosa troviamo qui. Perché sarà proprio N. Sarà proprio N. Scopriamolo. Mamma mia. Mamma, aiuto, ragazzi. Aiuto, ragazzi. Aiuto, ragazzi. Questa è una bomba senza precedenti, ragazzi. Questa è una bomba senza precedenti, ragazzi. Ok, è il back. Beh, anche... Anche tipo... Rai Quaza... E Mewtwo... Me li prendo volentieri, eh. Me li prendo molto volentieri. Ah, bello. Bello, bello, eh. Che qui? Bello. Mamma, ragazzi. Che figo. Mamma mia, ragazzi. Che belli. Bello sto Chizer, magari. Ma che è? Ah, questo qua. Ma scordatelo. Credo sia una holo, eh. Empolion olografico. Mamma, che particolare l'olografia, ragazzi. Cioè... Cosa ci sta facendo aprire Yukidex, che è qua in chat, bello Empolion. Ragazzi. Cosa ci sta facendo aprire? Le bombe incredibili. Guarda che spettacolo queste carte. Guardate che spettacolo queste carte, ragazzi. Il ghiacciolino sui monti. Prima edizione. Trainer fossile. E non vi dico cosa assomiglia a questo fossile, eh. Cioè, arrivate voi. Upaolo! Un cuor santo, ovviamente. Upaolo è il pullettino del pacchetto di XY11. Dal costo di 100 euro, ma dal valore di 150. Qua dentro, in base alle vostre preferenze, potete indicarvi i vostri Pokémon preferiti e ve lo riempie con un sacco di prodotti, eh. Quindi anche prodotti esclusivi del Pokémon Center, signori. Ma quanta roba c'è qua dentro! Aiuto! Il mio Pokémon preferito! Oh! I Terrarium, ragazzi! La collezione Terrarium! Mio fratello Chaisard! Electivire! Mamma, ragazzi, ma che prodottino! Ah, ti... Mamma, Giuse, tu sei un matto, comunque. Impazzisco! Ma quanto è bello, raga! Che figata! Il deck di Flareon e Eevee! Domani Yukidex finisce le score. Mi raccomando, andate a comprarle da Yukidex, ragazzi, eh. Fate i bravi! Promo Gym, no, non è Gym. Promo di Umberon, Sealed. E per un amante folle del sigillato, ragazzi, questa è assurda. Cosa sarà mai? E vi ricordo, la Master Boxer... Queste Master Boxer sono tutte così via, cioè, nel senso, la costruisci... Ciao, Swayne! La costruisci tu a passo con lui. Costo 100, valore 150. Oh! È un bel Lyfeon! Allora, andiamo con CP2, signori miei. Io, però, non vorrei rovinare il pacchetto. Devo essere onesto, ma mi sa che... Cioè, guardate... La vedete l'olografia? Oddio! 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 L'abbiamo pullato! L'abbiamo pullato! L'abbiamo pullato! Mamma, ragazzi, che culo! Ragazzi, che culo! No, ma quanto sono... Sono 25 passi sopra i giapponesi rispetto a noi italiani. Fennekin. Fennekin anche prima, eh. Onzong. Ariados. Xerneas. Oh! Oh! Che figo! Il cagnolino elettrico! L'antenato... ...di Boltund! Che figo, ragazzi! E dietro? Le treine. Se volete pullare queste cose, ragazzi, andate sul profilo Instagram. Io vi saluto e vi ringrazio. Per chi è su YouTube, vi invito a lasciare un bel pollicione in su perché arriverà inizio anno nuovo delle bombe clamorose. Ragazzoni, ci vediamo martedì. Un salutone. Ciao ragazzi!